Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale Oggi proseguiamo con la demo di Card Detailing Simulator Non è ancora finita quindi io finché mi da modo di giocare Vi porto ancora qualche gameplay di questo giochino Che devo dire mi sta divertendo davvero tanto Spero piaccia anche a voi Io lo trovo molto interessante E sinceramente sono curiosa di sapere cosa c'è Ancora più avanti che tipo di gameplay ci sarà E' una demo quindi credo che sia anche un pochino limitato il gioco Sicuramente si saprà di più quando uscirà il gioco Ancora non c'è una data Speriamo comunque di sapere presto una data ufficiale Allora io proseguo qui credo che ho un altro No aspetta dal computer Ho un altro ordine da fare Walker T Ranger mi fa pensare a qualcuno Allora vediamo cosa chiede Qui dice wash the car quindi devo pulire l'auto E devo pulire i finestrini Qua dice che ho dei vicini suoi Dei bambini Gli hanno sporcato l'auto Anche a lui dei bambini Gli hanno sporcato l'auto Adesso vediamo Traducendo per bene Ah hanno gettato del fango Sopra la sua auto Quindi è per quello che è sporca Va bene Accettiamo l'ordine Mi paga 400 dollari Quindi ci guadagnerò anche 400 punti esperienza Accettiamo E andiamo a lavorare Piazziamo qui la macchina Quindi dobbiamo pulire la macchina Ci serve il kit Questo qua Allora se non mi ricordo male Prima si deve insaponare Appunto Dobbiamo insaponare tutta la macchina E poi sciacquiamo Anche questo lato Comunque raga Davvero interessante questo gioco È un bel passatempo È divertente Io vi consiglio di giocarlo Giocate la demo E poi così Vi rendete conto Anche voi Meglio Di quello che è il gioco Vediamo se così va bene Allora Cambiamo strumento Ok Ecco qua che la macchina inizia a vedersi Pulita e lucida Anche se i finestrini li devo lavare in un altro modo Infatti Avanza solo il progresso della pulizia della macchina Graficamente devo dire che non è male È carino Adesso aspettiamo di completare il cerchio verde Ecco fatto Anche perché non so come pulire bene lì Non salta E da qui manco ci arriva Vabbè comunque ce lo dà Per buono così Allora Adesso devo cambiare kit Perché devo pulire i finestrini Quindi questo è per gli interni Questo Ok Mi ricordavo di averlo comprato Allora Dobbiamo usare lo spray Ok E poi La pelle Puliamo e lucidiamo il vetro Ecco qua Facciamo per bene I bordi sono un po' più difficili da pulire Spero che gli vada bene Allora Cambiamo strumento Ancora lo spray Ok La pelle A posto A posto Ancora si cambia strumento Spray Pelle Adesso è anche di qua Una parola Ah ok Meno male No Mi devi dare la pelle Ok Questo è fatto Ultimi due finestrini Ok Ok E passiamo all'altro Perfetto Ordine completato Allora Andiamo a prendere il telefono Ormai questo l'ho imparato Telefono Si fa la fotina Si va a mettere in bacheca E abbiamo completato l'ordine Quindi 400 dollari 400 punti Esperienza Finito Allora non credo Ah no Ce ne sono ancora ordini Ah però Ce ne sono ancora Però volevo vedere raga Perché sono curiosa Che è la parte che mi piace di più Allora io ho 16.500 dollari Posso comprare una macchina? Vediamo Questa costa troppo Questa costa troppo Cioè macchine raga Da 500.000 dollari Ah Per ora solo queste? Ok Perché è la demo raga Perché è la demo limitata Non posso acquistarla Perché mi dice che costa 500.000 dollari Infatti se clicco su bui Su compra Non posso Quindi devo fare i soldini prima Ok Devo lavorare Ehm Cosa dice? Ah Posto per una macchina Sì lo so che c'è il posto Per una macchina Ma io posso comprare Movicar Posso comprare Upgrade Allora Questi Questo è l'upgrade Ehm Non c'è l'upgrade Per Per altre cose No Solo Per ora solo questo Eh perché invece Non so se vi ricordate Nel primo episodio Che ho portato Di questa demo Eh Il gioco ci dice Che possiamo anche Avere un altro spazio Qua Dove mettere le macchine Però si vede che Può darsi che Un upgrade Anche quello Che io al momento Non posso fare Quindi andiamo qui C'è un altro ordine Da fare Vediamo cosa Dice Questa email Allora Qua dice L'auto è pulita Ma non brilla Come una volta Lucida la carrozzeria E prenditi cura Della lucentezza E della lunga durata Dell'effetto Ah quindi vuole Che sia Lucente Pulita Lucente E che deve durare Questa lucentezza La brillantezza Della macchina Sotto Vediamo cosa sta dicendo Mi piace prendere Scorciatoie Purtroppo La mia scorciatoia Devo aspettare Che traduce E tutta tra i cespugli Ah bene Quindi Lucida la macchina Questi sono i compiti Che dobbiamo fare Accettiamo Mi da 200 dollari Devo lucidare la macchina Ah lo posso comprare Ecco 3000 Compriamo Ho messo la macchina qua Allora Mi ha detto Che mi serve Un kit speciale Infatti Lì Alla sinistra Mi dice di comprarlo Compriamo il kit Per lucidare Che è questo qua Il kit Per lucidare La carrozzeria Della macchina 300 dollari Ho speso 3000 dollari Per il posto In più E 300 dollari Per questo kit Che adesso Vado a trovare qua E Dove me l'ha messo Qua Vediamo Ci spiega Come funziona Dobbiamo usare Questo aggeggio Ok Che lucida La carrozzeria Poi Bisogna usare Quest'altro strumento E cosa fa E cosa fa The flashlight Ah E che devo fa Allora Vediamo Lucidando Togliamo Tutti i graffi Dell'auto La carrozzeria E' Graffiata No In questo modo Spariscono i graffi Poi dobbiamo Controllare Di aver fatto Tutto bene Con l'altro strumento Che è Una luce Particolare Interessante Anche questo lavoro Ok Dice che va bene Usiamo L'altro strumento E' una Bolter Raptilia Credo di aver fatto Tutto bene Perché Se vedete Non c'è nulla Se no Doveva apparire Qualche cosa Questo che cos'è Non so Cosa Serva Secondo me Serve per qualche Altro lavoro Perché Non Non me lo fa usare Forse Per qualcos'altro Comunque Credo di aver Terminato il lavoro Perché Per lui E' fatto Dovevo solo Lucidare Quindi Richiedeva Proprio Quello Possiamo Fare La foto Ecco Qui La mettiamo In bacheca E veniamo Pagati Però è carino Davvero divertente Ok Vediamo Un po' Adesso Cos'altro Posso fare C'è un altro Lavoro Barbara Cosa chiede Allora Vuole Che puliamo Le ruote E gli interni Questa qui Vuole puliti I finestrini E qui Dobbiamo pulire La macchina E i finestrini Per cambiare un po' Accettiamo Questo Dove Dobbiamo pulire Gli interni Della macchina E le ruote Vediamo sempre Cosa scrivono Perché mi incuriosisce La parte sotto Ho fatto un viaggio Di famiglia Nei boschi Ah vabbè Come quella Di prima Penso che sia Nel primo episodio E' uscito Qualcosa del genere Che ha fatto un viaggetto Per portare la famiglia Nei boschi E si è sporcata La macchina Giustamente Questa moda Di Andare nei boschi Con queste macchine Poi Accettiamo l'ordine Piazziamo qui Posso accettare Anche un altro ordine Se voglio Piazzandolo qui Però Va bene così Allora Puliamo gli interni Per pulire gli interni Devo usare Il kit Apposito Questo qua Apriamo la macchina Prendiamo Questo Selezioniamo Il sedile Ecco fatto Adesso si cambia Strumento Il sedile Che era sporco 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 Torna come nuovo Viene via Tutta Tutta La sporcizia Ok Basta fare Esc C'è un'altra cosa Da pulire Che è il tappetino Proprio questo Si fa in un attimo E' già pulito E qui abbiamo fatto Non c'è spazzatura Nella macchina Non mi pare Quindi Cambiamo strumento Allora Quest'altro Non c'è bisogno Di essere poi Proprio Particolarmente Precisi Però vabbè Io lo faccio così Perché mi piace Mi diverto Ma poi Alla fine Come potete vedere Non è che ci vuole Chissà quanto tempo Comunque Molto interessante Questo gioco Sono curiosa Di vedere Poi Quando uscirà Cos'altro Proporranno Come gameplay Fin qui Devo dire Che non mi dispiace Ed è divertente Bisogna capire Come si prosegue Con il gioco Come si espande L'officina Perché Non è male Devo dire No Allora Non devo andare Nel negozio Devo semplicemente Prendere questo Che puliamo Il tappetino Ecco Per lui E' già E' già a posto Anzi Per lei Anche se Probabilmente Ah no E' già pulito Ah va bene Allora Siamo a posto Così Altra Fotina Un'altra Bella Macchina Che mettiamo In bacheca Ale Quanti soldi Ho? 13.600 Dollari Va bene Raga Io direi Che per questo Episodio è tutto Mi fermo Qui Un po' Di ordini Li ho fatti Mi sono divertita Ormai Avete più o meno Credo Capito Di cosa tratta Il gioco Però questa è la demo Per quello Dico Secondo me Non c'è solo questo C'è qualcosina In più Però sappiamo bene Che quando si giocano a demo Non è mai del tutto Completa Quindi il gioco Non è che Lo possiamo giocare pienamente Ci sono delle funzioni Bloccate Cosa che magari Non vediamo Non possiamo usare Se vedete Quelle macchine Che ci sono In magazzino Mi dice Che costano 500.000 dollari Che sono tanti Mentre io Ho 3600 dollari Vuol dire Che magari Ci sarà modo Man mano Che si gioca Di andare a guadagnare Delle cifre importanti Per riuscire a comprare Quelle macchine Così costose Che poi Sono macchine Che noi dovremmo Rimettere a posto E vendere Quindi Dipende Quanto ci spendiamo Poi ovvio Che ci dobbiamo Riuscire a guadagnare Perché una macchina Che costa così tanto Ci deve Pur poi Fare guadagnare Di più Quindi Chissà cosa C'è in serbo Più avanti Per questo gioco Beh lo scopriremo Solo quando uscirà Non c'è ancora Una data certa Vedremo Se lo saprò Ve lo farò sapere Comunque Cercherò di tenermi Informata Di tenere l'occhio Insomma Come procedono Con questo giochino Io vi ricordo Di guardare I link In descrizione Se volete Venire a trovarmi Nel mio canale Twitch Dove streamo Tutti i giorni Dal lunedì al sabato In descrizione Trovate il link Trovate il link Per anche Aggiungervi Al mio gruppo Telegram La sala giochi Di Nora Se volete Supportare me E il canale Potete farlo Tramite abbonamento Dal tastino Abbonati Oppure potete Fare una donazione Tramite il link Donazioni Poi trovate Anche il link Di cdk.t Dove tutti i giorni Ci sono giochi scontati Se volete Darci un'occhiata Il link Del mio shop E mi raccomando Spolliciate Commentate Condividete i miei video Se vi fa piacere E fate un po' di passaparola Così il canale cresce Arrivano nuovi iscritti Alla prossima Ragazzi Vi saluto Ciao ciao